Ci sono delle cose di cui dobbiamo parlare, delle cose molto particolari, che hanno a che fare con la strategia ovviamente di mercato che la Juventus dovrà attuare. Piccola premessa, non c'è molto da dire sull'argomento, nel senso che io ho un'opinione molto molto chiara. Ora vi dico una cosa molto semplice, non sarà un video in cui sarò tenero da questo punto di vista, semplicemente perché io devo farvi capire alcune cose, devo dirvi alcune cose che ho deciso di dire proprio perché non mi piace andare a sminuire la nostra maglia. Quindi è una cosa che vi devo dire. Piccola premessa, io mi rendo perfettamente conto che all'interno di una società c'è l'esigenza di far coniugare comunque una competitività sicuramente sportiva con un equilibrio di bilancio. Cioè me ne rendo conto, non sono uno di quelli che ti dice no, a me il bilancio non me ne frega niente, oppure no, ci sono delle situazioni che non mi interessano. Io sono consapevole che all'interno di una società, specialmente se poi c'è un certo tipo di ricchezza, è importante garantire comunque l'equilibrio di bilancio. Però ovviamente quando tu fai questa situazione, quando tu vivi questa situazione e effettivamente guardi la tua squadra, io penso che tutti noi dobbiamo capire che si è arrivati ad un punto adesso in cui tu non puoi andare indietro. Ok? E perché non puoi andare indietro? Perché altrimenti perdi tutto quello che tu hai fatto. Vi spiego un po' la situazione. Allora, mi spiego un po' perché è un po' particolare come è, un po' particolare, un po' di litigi ci sono stati ultimamente. Facciamo un po' di cose. Prima ovviamente di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi a iscrivervi sempre al canale, ovviamente mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, ovviamente tutti i giorni ragazzi nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi insomma tutti i giorni nuovi contenuti, nuovi video. Se vi va, insomma, iscrivetevi al canale, mettete ovviamente like al video e attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornate. Vi ricordo, insomma, di, insomma, fate questa cosa, attivate, attivate la campanellina, non fate i tifosi dell'Inter perché se no non vi arrivano le notifiche. Inoltre a tutto questo, trovate OneFootball che è la prima ruota di Riala Calcio, è gratis, trovate anche i miei social, quindi se vi va, seguitemi sui social. Allora. Alt. Dipende tutto da, allora, il discorso è, Elkan ha comunicato ai dirigenti della Exor che la strategia di mercato della Juve potrebbe cambiare. Quando vi dico potrebbe cambiare, dico che potremmo assistere ad una sorta di, diciamo, di cambiamento, ecco, particolare. È stata una comunicazione ufficiale di John Elkan e dirigenti Exor che, giustamente, adesso dovranno farla rispettare i dirigenti sportivi. Cioè, la Juve non vuole fare più un mercato, cioè non vuole continuare a fare mercato normalmente come ha sempre fatto. Vuole continuare a fare mercato in maniera normale, vuole continuare ad investire in maniera normale, ma non vuole investire in grandi nomi. Cioè, non vuole spendere tanti soldi per i giocatori. Cioè, ci sarà un tetto di investimento entro il quale probabilmente i dirigenti sportivi dovranno, insomma, lavorare. Quindi, oltre quella cifra, tu non puoi effettivamente andare a spendere, perché altrimenti la Exor ti dice di no. Ora, ti parlo in maniera molto, molto sincera. Io credo che tu debba capire cosa vuoi dalla vita. Nel senso, se tu mi dici, guarda, io in questo momento della mia società, della mia squadra, della mia Juve, non voglio andare a competere con le grandi, e quindi non mi va, da questo punto di vista, di essere un elemento di spicco, non voglio essere protagonista in Italia e in Europa, allora io ti dico, è una strategia che serve per salvare le casse societarie. E quella è una cosa che, io ti dico, per me è sbagliata, però lo capisco in funzione di quello che tu dici. Però se tu vieni da me e vai di fronte a un micro e dici, no, no, la Juve deve vincere, perché la Juventus è una squadra che deve vincere, deve sempre essere prima, eccetera, se tu hai l'ambizione di vincere e quindi di essere una delle squadre più grandi al mondo, tu non te ne puoi uscire con queste regole ridicole, capito qual è il discorso? Perché queste sono delle regole ridicole, regole ridicole che potrebbe mettere chiunque, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, per chi ha varato questa cosa. Perché? Ti spiego in maniera molto semplice. Io ho grande rispetto per l'Exor, per tutti coloro che gestiscono la Juventus, però l'Exor deve anche cominciare a capire, e io credo che loro lo capiscano benissimo, perché sono tutte persone capabili, che il calcio è cambiato, ragazzi, io non ce la faccio, ripeto sempre le stesse cose e la gente mi risponde sempre le stesse cose. Ragazzi, il calcio è cambiato, c'è gente che l'altra volta mi ha scritto no, il calcio non è cambiato, perché se tu sai fare scouting, tu non hai bisogno di spendere tanti soldi, piccolo particolare, lo scouting non si fa a 3 euro. Ragazzi, oggi un ragazzino di 20 anni, con 10 presenze, te lo fanno pagare a 40 milioni. 40 milioni! Non esiste più il concetto di scouting come una volta, anche se è scouting, devi pagare parecchi soldi. Allora, se sei una società che deve ripartire da un punto, allora io ti posso capire, ma una società con il valore attuale, con il palmaresse attuale, anche se vogliamo un brand del genere, perché noi abbiamo un brand importante, che comunque viene conosciuto in tutto il mondo, non si può permettere di fare mercato prendendo sconosciuti, sperando che questi un giorno diventino forti. Voi dovete capire il mio punto di vista. Io non voglio arrivare sempre dietro al Real, al Barcellona, al Bayern Monaco, mi sono stufato. Allora, nella nostra storia abbiamo fatto quante finali? 9 finali Champions, 2 abbiamo vinto, 7 l'abbiamo perse. L'abbiamo gestita male, siamo arrivati lì sicuramente alcune volte con delle squadre inferiori, siamo arrivati in finale fisicamente spompati, gli episodi ci sono andati contro, però tu hai capito che nel corso della storia tu hai sempre mantenuto un livello alto, cioè sei sempre stato lì laddove c'erano gli altri più ricchi di te. Ma perché? Perché comunque quando tu dovevi investire, hai investito. Non mi mettere in società, gente che mi comincia a mettere i limiti per quanto riguarda il denaro, perché veramente ragazzi, qui non se ne parla più, ve lo dico sinceramente, e con grande capacità. Io te lo dico, ti faccio capire una cosa, ma te lo dico proprio sinceramente. Non cominciamo a prendere in esame investimenti del genere, perché il fatto che la Juve non possa spendere più di un tot, perché se no... Allora, se tu sapevi questa cosa, allora non mi puoi dire, no io ho un aumento di capitale, la Exxon non la fa perché non abbiamo bisogno, ma come non ne abbiamo bisogno? Se tu metti un tetto di spesa all'interno del quale io mi devo trattenere, è normale che ho bisogno di liquidità. Io capisco che non si può fare un aumento di capitale ogni volta, capisco che ci sono delle situazioni, però neanche le colpe riparate ce le possono pagare gli altri. Io questo dico, vuoi garantire la società ad alti livelli? Vuoi essere vincente ad alti livelli? Vuoi essere uno dei migliori al mondo e competere con le migliori squadre? La dobbiamo finire di lavorare in economia con risparmio, perché questo non è il mercato della frutta. Questo è un posto in cui si comprano i giocatori. Io mi sono stufato di vedere squadre che non hanno né il blasone, né l'avete come il City, di trionfare. Le stesse squadre vincono, arrivano in fondo alla Champions. Perché? Perché sono state costruite a suon di milioni e dicono no, non li vincono, non hanno vinta la Champions. Ok, non l'hanno vinta, ma la vinceranno. La vinceranno. Cioè il City, so dieci anni che compra a Guardiola e miglior giocatore, la vincerà proprio un po' alla Champions. I Real Madrid vinceranno la Champions, ma voi pensate che Real Madrid vinca la Champions perché Ancelotti, grandissimo allenatore, Ancelotti è un grandissimo allenatore, ma Ancelotti senza i giocatori è forti. Ha dimostrato che arriva a metà classifica perché Ancelotti con Leverton e con Napoli li stava. I giocatori li fanno una differenza. Il Real Madrid sarebbe il Real Madrid senza i giocatori che ha comprato? Non sarebbe il Real Madrid. Ma arriva Perez, arriva il Real Madrid e dice mettiamo un tetto in gaggi perché noi dobbiamo spendere poco. Arriva il Bayern Monaco e gli dice mettiamo un tetto in gaggi. Il Bayern Monaco quando ha dovuto spendere? Ha speso, nonostante sia una squadra che tende a risparmiare. Quando ha dovuto cacciare i soldi? Ha cacciati. Barcellona sta pieno di debili, fa acquisti in continuazione e continua a mantenere un livello alto. Perché io ogni volta mi devo trattenere e devo continuare ad avere un problema a livello proprio economico per poi vedere la mia squadra sempre seconda e terza? Allora io dico una cosa, tu che visione hai della Juventus? Perché se tu una visione della Juventus ce l'hai come una squadra o comunque puro. Personalmente io penso che gli agnelli hanno sempre avuto una visione della Juventus diversa da quella che hanno attualmente. Cioè attualmente io mi sento come se questa squadra debba, dice tanto capirai, arrivederci, fate quello che volete tanto la dobbiamo prima rimettere e poi forse facciamo gli investimenti. Ma io non posso aspettare un altro 2-3 anni che poi li mettete in società, in salute, tutta la situazione, perché noi dobbiamo fare gli investimenti contenuti, ma gli investimenti contenuti, cioè è normale che tu li debba fare, io non voglio mica che tu spendi 100 milioni per un giocatore, però manco voglio che se c'è stato un giocatore che devi prendere e costa 60 milioni, mi dici no non lo posso prendere perché mi prendo quello che costa te, perché c'è stato un motivo, perché non lo puoi prendere, perché evidentemente non hai i soldi. Allora se non hai i soldi e non è vero che non ce li hai perché la Exor ce li ha, ti ripeto un'aiuto all'aiuto e tu glielo potevi dare, perché la Exor spende una marea di soldi per altre cose, poteva spendere anche di più per la Juve, che comunque è un business che funziona, cioè se tu non mi garantisci un adeguato livello, un certo livello, è inutile andare sempre ogni volta a fare queste cose, perché io comprendo perfettamente. Allora, no, facciamo un discorso, no, facciamo un discorso un po' più generale, facciamo un discorso generale, io capisco che gestire la società di calcio oggi sia difficile, va bene, ma al tempo stesso io non ti posso dire, io non ti posso dire sempre e comunque, no, perché io devo fare gli investimenti contenuti, perché gli investimenti contenuti, se vuoi giocare a questo livello non possono essere fatti. Poi se tu vuoi giocare a livello di squadra che escono agli ottavi di Champions, seguisti i risultati, esci agli ottavi di Champions. Basta ragazzi con questa situazione che ogni volta gli allenatori, i dirigenti devono fare i miracoli per fargli i risultati, cioè nessuno in Europa fa sta cosa qua, in Europa serve un giocatore, lo prendono e pagano, punto. Cioè io mi sono stufato sinceramente, la gente dice no perché tu metti di rame, ma mi ramento, ma mi ramento perché continuo a vedere delle cose che non hanno senso, ma per quale motivo io ogni volta che ho un giocatore di fronte che mi piace, mi devo creare il problema del City, del Real, del PSG, quando alle spalle c'ho una holding da 200 miliardi, perdonatemi, ma perché ogni volta devo fare sta cosa qua? Perché noi dobbiamo essere sempre l'ultima ruota del carro? Cioè perché a sto punto se non riesci valuta veramente di fare dei cambiamenti perché non se ne può più, non se ne può più, il calcio non è più quello di una volta dove prendi i ragazzi a 10 milioni di euro e ti diventano fenomeni, non è così che funziona nelle grandi società. Qui non c'è il tempo di andare a prendere gente e aspettare che maturi, non c'è il tempo per prendere giocatori e aspettare che forse diventino forti. Qua bisogna vincere subito, subito, perché questa non è una società che vale poco, questa è una società che vale tantissimo. Fate sapere nei commenti.